bene che video, sono schiappato proprio tutte le siepi, spettacolo, non mi frega di cionare che spezzo le orecchie, bello, guarda che video spettacolo ma ma questo se non ho visto mai? ma tu dici? quanti sono arrivati? ma giaro, ho il laghetto eh Filippo, torna indietro, vedi le casette il zingaro c'è un po' di poca cola, c'è un po' di poca cola eh, l'ho risciutato quella che ci sta a spiaggia l'ho risciutato, c'è un po' di poca cola mazzo, questo è piccolino grosso grosso simbomaster urla, grosso del fiero ah, c'era che qua era con la massimessa della ah, quella con la cartuccia ma che sarà questo? big bucks che ne vinsi che ne vinsi che è un po' di poca cola non è un po' di poca cola senti ma se scendiamo al polo a fare il campo? vabbè, se paghiamo con l'euro o ne guai? la cingura la cingura la cingura, veniamo qua l'arrotonda a 250 vediamo un attimo di 4 fondi che ne hai pagato vieni atti la casetta rosa va bene bellina dai guarda quanto è bella una villetta questa spacca il merfry sarà a gusto guarda la doc 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 casette sconsacrate bella informazione tu è preciso la doc rexektion la doc la doc la doc la doc la doc anche qua guarda filippo Zimmer affattament bella rexektion andiamo a chiedere oh chi ci parla ungherese abbozziamo una mezza specie di tedesco va la doc la doc la doc la doc la doc Grazie a tutti 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 Spacca Grazie a tutti